è favoloso in tutti i sensi il film di garrone tale of tales che è al festival di perth comincia al somerville dal 4 gennaio è in inglese ma viene dal racconto dei racconti di un autore napoletano del 600 e visto che va dal 500 all'800 il ricchissimo materiale nella mostra treasure ships vi faccio un invito personale perché domenica 27 dicembre faccio una visita guidata in italiano alla galleria d'arte a questa mostra dovete comprare il biglietto la visita guidata che vi propongo è alle 11 se venite un po' prima vedo se posso organizzarvi qualche margine di sconto ma sempre alla galleria vi preannuncio anche degli spettacoli e il prossimo che io sappia è nello spazio centrale dove le nostre amiche di diva issues due soprano molto brillanti presentano la loro versione dell'impresario di mozart solo due sere a fine gennaio quindi procuratevi il programma del festival fringe che apre appunto il 22 gennaio con un weekend di cinque giorni fino al 26 cioè australia day e ogni sorta di altre cose veramente incredibile tornando al cinema piaf dal 28 al somerville poi ovviamente passa giù un bel documentario su un cavallo che si chiama dream alliance e la storia il titolo dark horse che si riferisce alla sorpresa che la sua storia rappresenta ci saranno animali vivi e veri nella natività forest place dal 21 al 23 alle 6 e mezza e quindi più tardi dopo le 8 credo le proiezioni sul palazzo della posta che chiaramente poi concludono devo ancora vedere il film italiano mia madre che è in italiano e apre al somerville 11 gennaio finirà giunto la domenica 24 e visto che è tutto in piene vacanze mi auguro che siano moltissime le persone che vanno a vederlo ai due cinema all'aperto vi ricordo del festival di pez sempre domenica 27 dicembre a frimento c'è un concerto nel cortile dell'art center con il quintetto locale a mani consort e alle due del pomeriggio e questa serie continuerà fino a marzo quindi quando esce il prossimo programma trimestrale di attività culturali vi dirò altro ma intanto procuratevi tutti quelli che trovate naturalmente quello del festival di perti cui riparleremo perché apre l'undici febbraio ma è bene prenotare per tempo e troverete elementi italiani tornando a frimento e a gennaio dal 4 al 30 il teatro di figura spare parts presenta miss lily's fabulous feather boa dal libro di margaret wilde quindi potete cercare il libro per i bambini o altri prima di andarlo a vedere con i soliti orari ovviamente spettacoli attività per bambini abbonderanno nelle vacanze ci sono vari film e il mio preferito è senz'altro il film dei peanuts con snoopy e charlie brown e tra le voci dei bambini e sono voci di bambini c'è anche una francesca angelucci capaldi pare che i ragazzini di oggi conoscano poco i personaggi di schultz e a differenza di me penso che riconoscano più facilmente le musiche balli di alvin and the chipmunks ci sono ancora altre attività qui a persa dicembre mi pare che sia proprio lunedì 21 una giornata particolare al st george's college con ogni sorta di attività ma conclude l'anno e questo segmento con il concerto vienna pops alla perth concert hall il 31 a partire dalle 21 e 30 due cantanti di stili diversi fiona campbell e ali body coat il biglietto include lo champagne è per beneficenza poi si può ballare fino alle ore piccole e a tutti faccio tanti auguri